Noi dobbiamo vaccinare 12.000 persone e contiamo di farlo entro i primi di ottobre, per poi, come giustamente ha detto il Presidente e il Generale, rivolgersi ai centri servizi, all'RSA, perché anche lì abbiamo persone fragili. Il primo obiettivo quindi è quello di coprire i 12.000 trevigiani più fragili e farlo in massimo due settimane, mille circa al giorno. Le premesse al momento sembrano buone. Abbiamo il 100% di adesioni. È difficile perché qualcuno magari ha dei problemi, decide. Invece qui, devo dire, evidentemente i sanitari sono riusciti a convincere le persone e portarle tutte qua. Terze dosi che adesso si sommano, le prime e seconde ancora in corso, che effetto dell'estensione dell'obbligo di Green Pass a tutti i lavoratori, stanno conoscendo un boom che non si è arrestato nemmeno nel fine settimana. Noi stiamo registrando un 35-40% di adesioni in più rispetto a quello che avevamo fino all'altro ieri. Immunizzazione che ovviamente coinvolge la stessa popolazione scolastica. All'inizio della seconda settimana di lezioni, dice Benanzi, il numero totale di classi soggette a provvedimento in diminuzione rispetto al picco di 35 ha registrato venerdì. La risposta dei giovani è buona, ma non ancora sufficiente. Abbiamo dai 12 ai 29 anni, abbiamo avuto effettivamente numeri importanti, oltre il 67%. Noi chiediamo ancora, soprattutto ai genitori, dei minori, di farsi carico di portare i loro figli a vaccinare perché li mettono in sicurezza. Appello che vale anche per le donne incinte, nelle ore in cui migliorano le condizioni della futura mamma, rimasta positiva al Covid in terapia intensiva. Ancora è stabile, ma ancora a rischio. Noi ci auguriamo veramente di poterla anche lei, come dire, portare in pneumologia per poi portarla fuori definitivamente da questo rischio. Perché ricordo a tutti, bisogna che le donne si vaccinino in gravidanza perché preservano loro stesse dal Covid, ma soprattutto il loro nascituro. Grazie. Grazie. Grazie.